Adesso possiamo passare all'argomento dell'intelligenza artificiale, è un po' una buzzword, nell'ultimo periodo l'intelligenza artificiale la sentiamo un po' in diversi contesti, quindi, HubSpot in realtà sta investendo molto e HubSpot come azienda tutti gli anni reinveste il 20% del proprio utile in ricerca e sviluppo e negli ultimi anni ha investito parecchio in quella che è l'intelligenza artificiale. Che cosa può fare essenzialmente l'intelligenza artificiale per noi e come può essere applicata per quello che è la nostra base dati? Può aiutarci a prendere decisioni istruite, basate su quelle che sono le informazioni all'interno del CRN, migliorare la nostra efficienza operativa, l'intelligenza artificiale ci può aiutare a scrivere contenuti, a creare blog post, creare newsletter, creare campagne, automatizzare interazioni ripetitive, strumenti di workflow che già erano esistenti insieme all'intelligenza artificiale ci permettono di andare next level in questa rivoluzione tecnologica e in più tutto ciò migliorare l'esperienza del cliente. Nello specifico ci sono diversi strumenti che sono già presenti all'interno di HubSpot e sono i più diversi, quindi ne menziono qualcuno, per esempio Website Generator, AI Counterwriter, quindi AI Generativa, Brand Voice, SEO Recommendation, tutti i vari strumenti di AI Generativa che possono fare riassunti, creare articoli, tradurre, ma anche le parti più interessanti come creare una AI Power Chat e per darvi diciamo più un'idea sarebbe bello fare una prova, questa è l'interfaccia di HubSpot, il suo interno, siamo all'interno di quello che è il prodotto Content 3 Mix, l'idea è provare a farvi vedere in qualche minuto come effettivamente HubSpot può essere utile a voi in quello che riguarda la creazione di contenuti, quindi il concetto qual è? Che dobbiamo essenzialmente dare in pasto delle informazioni al software e poi guidarlo e quindi chiedegli di creare per noi un qualcosa, per esempio partiamo da un sito internet e prendo questo sito che conoscerete più o meno tutti. Cosa sta facendo adesso il software? Sta andando su questo sito che in questo caso è già lo zafferano, un sito di ricette, sta analizzando quello che vede e adesso è pronto a elaborare questi dati e mi chiede che cosa vuoi creare da zero. Ci sono diverse opzioni, quindi gli ad, i blog post, le immagini, le landing page, le email. Per questo esempio dobbiamo fare un blog post, una landing page e un'email. Ottimo. Bisogna dargli qualche minuto per caricare, però l'idea qual è? Che questo è uno strumento utile per tutti quei team che magari hanno un dipartimento di marketing snello, che hanno bisogno magari di salvare un po' di tempo e non hanno tempo di andare a creare delle campagne scritte a mano o degli articoli di blog o magari ridisegnare il sito. Tramite l'utilizzo di HubSpot, insomma, c'è l'aiuto dell'intelligenza artificiale per velocizzare questo processo. Vedete bene? Ingrandisco, sì, perfetto. Allora, facciamo l'esempio della mail. Il vantaggio qual è? Che tutti questi asset sono creati all'interno dell'infrastruttura HubSpot, quindi sono creati e sono fruibili immediatamente. Questa è la mail. Magari la apro un pochino, vediamo se si vede un po' meglio. Una volta che la mail è stata creata la posso salvare e andarla ad editare all'interno dell'editor di HubSpot. L'editor di HubSpot è molto semplice, tutto drag and drop, point and click. Questo, per esempio, è una piccola mail, si possono andare a creare, ad aggiungere le varie call to action, i link dei social, eccetera, eccetera. E questa attività si può fare per quelli che sono anche gli altri asset. Per esempio, qua adesso abbiamo creato una landing page, anche qua salviamo e andiamo a modificarla. Se non ci piace il layout, se vogliamo spostare la call to action o cambiare l'immagine, tutta roba che si può fare all'interno di HubSpot la si salva e via. Un altro piccolo esempio è se da un contenuto, per esempio, vogliamo creare un'immagine. Stessa cosa, HubSpot ha anche, già compresa all'interno delle proprie subscription, un folder di immagini dalla quale poi l'intelligenza artificiale va a ispirarsi per generarne di nuove.